Buongiorno Buongiorno Oggi abbiamo Mattia in stile Modric stile croato ho messo la maglietta allenamento Tutti nel Renault Traffic con direzione Parco Marian dove poi avremmo visitato due delle spiagge più conosciute di Spalato Kajumi Beach e Bendel Beach Arrivati alla stessa spiaggetta che è Kajumi Beach ed eccola qua, ci sono della panoramica abbiamo fatto un po' tardino perchè abbiamo visto le indicazioni per andare al parco nazionale Querca e quelle delle waterfalls delle cascate prenderò fuoco in potere il sentiero il sentiero stiamo lasciando Kajumi Beach per andare a Bene Beach attenzione le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità sconsiglio la visione a un pubblico di minori di deboli di cure e di non napoletani 10 figli facessasi fosse rami essa gli è sin docela di grazia pa-ra-pa-ra-pa anche da Gumbi Vina e ma che da Gumbi Vina? Gumbi Vina non dimmi più non dimmi più che te ne vai no no è stato solo un gioco sai io con un'altra lei mai lo fai guarda con questo taglio sembri tanto Pino Giordano ma perchè mi prendevi prima la casa di cabbaccio? è più bella sei una mamma d'amore signora ah no 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 secondo me noi ci facciamo un dio di bagno anche se piove con il numero 24 Lorenzo il figlio Lorenzo il figlio Lorenzo il figlio il figlio comunque voglio prendere la maglietta di Ivan Pentic bella perchè è nato a Spalaca io vi sono andato a Prima di Sara stamattina segnatelo questo Giovi volevo dire una cosa agli amici di il YouTube di Simone che è lui e queste foto no in realtà è bravo per tutti muoviti che non arriviamo più a casa muovevelo muovevelo nooo brillante brillante vado a casa nella tua silla metti a fuoco grazie senti ti sembra quella del deliberato Demetra Demetra valla un po' uguale stai a ria di ragazzi scelta fammi vedere un altro va bene voglio abbracciare non vuole bene non mi capisci nemmeno ci ha scritto bene ragazzi qua si lamentano non so se tornerò presto qui a Spalato o se tornerò presto qui quindi se ho l'opportunità mi faccio le foto anche qua sulla strada del parco Marian una due speriamo bene qua il tempo non promette bene siamo arrivati bene bici che è questa qui dietro e questo è molto più tranquillino non c'è la spiaggetta si va direttamente a mare tutto si ed è proprio all'interno del parco Marian si bello bello andiamo sul pontire andiamo sul pontire spostitivi un po' spostitivi spostitiviamo ma c'è una felta là no quella è un vero esemplare di cappello marino un francio felluno nell'atriatico è difficile da trovare ahhh se un attimo guarda non vuoi dire che c'è un gracchio non ti piace non ti piace non vuoi salire non vuoi salire in un luogo intero tengo salito anche ragazzi bene beach spettacolare tanto bene belissimo bella ragazzi, bella bella bulla ragazzi, bella bella i he's the only one he's the only one he's the only one he's the only one and we'll go to the one first queste belle coppiette quella sera a Napoli tutti riuscirono ad assistere all'eclissi lunare noi un po' più sfortunati avevamo il cielo coperto ma propriamente tutto il gruppo stava per ritornare a casa e si stava inoltrando nella montagna beh la natura ci stava per riservare un altro spettacolo non raro quanto l'eclissi lunare ma altrettanto bello questo sicuramente anzi i miei amici mi avranno avviso io sono in concorso mi lasciano veramente qua e allora sono sicuro mi lasciano qua ci teniva anche a chiedere scusa ai miei compagni di viaggio che ogni volta devono sopportare tutto il tempo che io perdo nel fare foto nel fare video però ragazzi come potete ben vedere io ci provo per recuperarlo questo tempo quindi apprezzate almeno lo sforzo e ragazzi il video si conclude qui io spero sia stato di vostro gradimento nel frattempo qui sotto vi metto i due link per le spiagge che ho visitato in questa giornata e sto preparando anche il nuovo video riguardo le top 10 di Spalato, Magarska o comunque la Talmazia in generale non so ancora bene come articolarlo cioè se parlerei di una città di tutte e due della Talmazia in generale eccetera però sicuramente arriverà un video di questo tipo detto questo noi ci vediamo in un prossimo video che arriverà sicuramente a breve perché ne sto preparando tre e quindi un saluto dal sottoscritto